Animali e animali, questo video non ha spoiler iniziali, vi dico soltanto che anche Papone e Surry hanno giocato benissimo e abbiamo fatto una vittoria reale leggendaria. 40.000 mi piace e vi riportiamo la squadra dei mates su Fortnite, quindi mi raccomando iniziate a spolliciare e condividete ai vostri amici. Ora vi lascio al video e buona visione. Tutti i mates per mamma! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati finalmente tutti i mates su Fortnite. Sono stanco ancora prima di iniziare, in realtà stiamo facendo l'intro alla fine del video. Questo video è veramente bellissimo, mi raccomando passate anche dal canale di Stefano perché uscirà un video di Fortnite oppure è già uscito sul suo canale. Siamo pronti per scendere in campo, io puzzo già di cipolla quindi potete già capire com'è finita. Allora raga, corso commercio scelto da Surry e vediamo cosa succede. Nella casa di fronte a voi Sascha c'è uno dell'altro team e qua c'è uno del... Riftugon c'è chi non pompa. Io ho solo un'arma e quindi ho c'è. E io ho solo un pompa. Vabbè, meglio che la mia pistolina silenziale, guarda. Un è atterrato nella casa dove sto andando io qua davanti? Dove sei? Sì, sì, c'è uno. Alla ammazziamo, lo sai da solo. È uscita, è uscita, è uscita, è uscita. Uno scudo solo. Sono dietro, sono dietro, raga, attenzione, sta andando da dietro. Dai, raggiungici. Pintato. Pintato. Mi piacerebbe colpire qualcuno. Sto scappando. Ok, occhio dietro, Surry, Surry. Voglio lanciare le granate, ti aiuto. L'ho alterato, l'ho alterato, ho alterato anche io. Anche ho alterato uno. E' da me l'infame. No, 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 no. Sto scappando, sto scappando. C'ho dieci di vita. Ok, l'ho alterato, mi sa. Dai, curami, curami, curami. Ammazziamo l'ultimo prima. C'ho sei di vita, c'ho sei di vita. Ah! Una vita, no! Hai fatto bene a dirmelo perché ho detto ammazzo prima l'ultimo. Vai, 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 buono, buono, buono. Raga, però, quanti erano? Quattro? Sì. Bella, raga, perché ce l'hanno bene questa. Raga, dietro, dietro, dietro di me, dietro di me, raga. Che lì via di là. L'ho detto che ce n'era un altro, cazzo. No, l'ultimo che ho ucciso io è morto subito. Dove? E quindi è un altro team. E' dietro, dietro, da est, da centro commerciale. Non c'è nessuno lì, fra. Ma come... Zio, ti dico se l'ho visto. No, 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 di qua su riesco dalla costruzione. No, no, non stavo spiegando niente io. Allora, Giuseppe, uno dentro. Ero io, ero io. Volevo far scendere quello atterrato. E' qua dentro, eh, lo sento, è qua dentro. Comunque è dentro, eh, quindi occhio. Stiamo di sotto perché al piano di sotto non c'è nessuno. Raga, è qui. Dove? Non io, tra. Senti tu. E qui sotto, raga, qui sotto, qui sotto. Avete mancato tutti. Questo è un altro. No, no. Si è nascosto. Stai l'ho sceso su, è vero. Se l'ha nascosto dietro l'angolo. Ok, l'ho atterrato. Vai, prenditi il fucile, bro. Ragazzi, ne ho atterrato un altro. Ce n'è ancora uno in giro, eh. E manca uno. Si. E' lì dentro uno. Avete scudito, eh. Si. Qua c'è un medikit, raga. E comunque c'è ancora uno, non so dove sarà, ma c'è. Dobbiamo andare, eh. Poi che è vicino alla set, però. Granata extra. Dove, dove, dove? Sasha, dove stai tu? Attento. Stai tutta la squadra sulla montagna. Vittato. Sta cadendo col cord. Quattordi. Passi da me, da me, guardate me, guardate me. Tu sei lì? Il Tato, il Tato, è a terra, è a terra. Sasha c'è l'altro. Eh, grande, è grande. L'altro è morto, c'ha one hit. Un è da me. Morto. Dove sono morto. Dove sei su lì? Eh, è da me, Matteo, l'ho ucciso. Ok. Vicino alla casa. Quanto è avvelenato l'altro, raga? Quanto è avvelenato? Sì, sì, è qua uno. Ecco. Ne manca uno, eh, quello che ha ucciso me. E dov'è? No, sei morto, no? Eh, sì, alla casa, verso, verso la safe. Eccolo. Eccolo. Dov'è? Dov'era Giuseppe prima. Che cazzo? Oh. E che cazzo? E mori. Venite qua, venite qua, venite qua, venite qua. Vabbè, vai, vai, vai. Non ci sono. Eh, ci fermiamo a queste case? Per vedere se c'è qualcosa di buono. Ti sto andando lì. Vabbè, è sorrita. Ce l'ho io, sì. Hai fatto la kill della partita, comunque. Hai ragione, quello nascosto nell'angolino, infamello. Ma è la casa vuota? No, è stata aperta, la porta è aperta. Sì, comunque, vedi che i materiali scherzeggiano a tutti, comunque. Abbiamo ammazzato tre team. E comunque non è che ho 800.000 materiali. Quanti kill abbiamo fatto, ragazzi? Scusate, io sono tre team. Sì, tre team. Ok, due io. Quindi sono due team. No, sono tre, tre. Davanti a noi stanno costruendo sulla montagna davanti, eh. Uno è appena salito in cima. Ok, visto. Non ho, purtroppo non ho... Vabbè, entriamo in safe prima. Io ho la deagle, se voglio, se vuoi provare a... Ma entra prima in safe. Preso, ucciso. Ok, meno male. Possiamo in safe, ma direi che è inutile rimanere qua, a meno che non abbiamo la safe. No, andiamo a vai, lì, raga. Mi conto se abbiamo la prossima safe, bro, se no no. Oh, da noi, da noi, da noi. Ci stanno arrivando addosso? Sì. Sono sopra. No, perché siete scesi da lì sopra, no. Io l'ho già giù. Sono sopra di là. Calma. Più di giuse perché ci spara addosso, eh. Eh, non so da dove, però. Che non lo sapevo. Che non lo sapevo che sti stronzi sparavano a noi. Stanno arrivando. Sto curando, raga. Poi ci sono operativo. Sopra o sotto? Sotto, 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 sta. Da me, da me. Sotto a terra, a terra. Un altro. Un altro, un altro, sta. Dov'è? Mi fa cagare addosso. Sempre dietro di qua, sta dunque. Di qua, di qua, di qua. Vieni, vieni, vieni. Lascia, dove sei? Un sopra di voi. Cazzo, qua, 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 qua. Arrivo, arrivo. Sto scendendo. Buonite. Vai, 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 vai. Puscia, puscia, puscia. Ma dov'è? Per cazzo, è vero. E' qua. Ok, l'ho atterrato, l'ho atterrato. Un altro. Cosa? Si è sparato addosso sto stronzo. Madonna mia. Ma che cazzo è successo, ragazzi? Oh mio Dio. Abbiamo 28 secondi, abbiamo tempo, eh? Sì, è tempo. Abbiamo le cure, ce l'abbiamo, non ci abbiamo niente. Non abbiamo niente, raga, non ci sono cure. Io ho due, due, due cose, quattro. Raga, rialzate. Ma non abbiamo bende, non abbiamo un cazzo. Eccole qua. Dai. Raga, qua uno scarviola, lo volete? Allora, io bende per tutti, eh? Devo rinunciare a qualcosa. No, ero io, ero io, zi. Ma paffanculo. Aspettate, la divido. Purtroppo gli scudini non si riusciva a portarli, però. Beh, è una bella partita comunque. Eramo tre contro, probabilmente, in altri due firmi. Raga, meno male che non mi è venuta l'ansia, sono rimasto con il 30 di vita. Porco miseria. Porco, porco. Le tiene tu, Giuseppe. Vabbè, non teniamo. Ok. Adesso, sopra la montagna, occhio, eh? Alla sua, la sinistra, al 210. Donna, siamo circondati. Siamo circondati, raga. Buttatevi le shifty shaft. Perché te, raga? È vostra, la trappola? Sì, 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 in preoccupazione. Che ansia! Eh, raga, minchia, adesso, mo, fate un respiro, secondo. No, 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 non entrare a entrare. Sto, no, ti faccio fuorire, se è per il minimo rumore fa. Che vostra? Ho una scuola, una scuola. Anche questa è vostra? Sento passi di persone. È qua, è qua, scendete, scendete, scendete. Prese entrambi. Atterra, atterra. No, non è morto! Non è morto, aiuto, no! Figlio di... Voi ucciso! Figlio di... Curatelo, curatelo! Oh mio... Arrivano! Arrivano! Sì, sì. No! Sopra, sopra, chiudi! Giude, io mi sopra! Ciò c'è il bel elemento, chiudi sopra! Non l'ho fatta errato, ste! No! Porca troia! Perché non chiudi? Perché sono giù nella cazza di grozza? Oh no! Porca cazzo! Eh raga, io che cazzo posso fare? Ma io ero convinto che fossimo già coperti. Di là c'è un altro, è un'altra scuola. Porca! Ci siamo chiusi nelle grotte con i topi. Ma non potevamo fare altro! Stupido! Ma che cazzo! Fa 7 chili o 6 Stefano, ma vi rendete conto? Grazie Suri per averci mandato a Parco Pacifico, le faremo sapere. Abbiamo trovato l'orientamento sessuale dei maids. Donna, 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 uomo. Ah no, ok. Vegas, eccolo! Vegas zoofilia direttamente. Allora raga, questo vi do la scelta fra due cose. Vai. Greasy Groove o Parco Pacifico again? Parco Pacifico se accendiamo ora non c'è nessuno secondo me. Greasy Groove. Greasy Groove. Vai Greasy Groove. Inoltre il problema è se lottiamo 10 minuti e poi moriamo subito. No, no, lottiamo due case. Ma infatti andiamo, lottiamo due case appena abbiamo tre armi a testo. Andiamo. Oh! C'è spuglio raga, hai vinto. No, no, ti prego già c'è Giuseppe che è imbaranzante con quella roba lì. Eh ragione. Che cazzo vuoi? Decidiamo, passiamo un attimo la shift in shaft al volo. Andiamo al pinnacoli. Ok, sei visibile anche tu e Giuseppe. Let's go. Ti vedo. E arriviamo da dietro che si si cagano a Deus. Sì, che mi ha sparato raga? Eh non sparo a te. Oh, da, dom andiamo a me. Hai giù a testa? No, no, dovrei riuscire. Duro? Mettere. Tra, ucciso ucciso. Due due morti mi fa. Sì, tutti morti. Ragazzi, fa mas d'oro, dico il d'oro, cecchino verde, è qua. La gente che esce da pinnacoli, se le andiamo a beccare qua. Dove? L'ho messo in blu. Magari, arriviamo prima di loro che manca un minuto. Uscirà qualcuno malmesso da Tilted, cioè anche se vince a Tilted e rimane un po' ferito. Rocchio raga, guardiamo se c'è... No, è Tilted vuota. Però strano che non c'è... Giuseppe, se sei un uomo sali in questa montagna. Ma sei scemo. Eh, però, direi, non sei un uomo. C'è una cassa lì, dai. Puoi costruire comunque, eh, se vuoi. Uno costruisce, l'altro sale. Ah, sì? Eh, sì. Sulpino, qualcuno vuole un sulpino. Sassi, vieni qua, c'è uno sulpino. Arrivo. Oh, ma devi andare dritto, ma è lo stai in turbo, ci ammazzi tutti. Adesso voglio distruggere. Raga, ma che state combinando? Stiamo spaccando. No, Giuseppe è andato di turbo, mentre costruivo distruggerà tutto. Oh, madonna. E poi moriamo a caglio, ragazzi. Uno col quaderno. Eh, non si può ovunque. Davanti a noi, raga, davanti a noi. Eccolo. Vittato anche quello. Vittato di nuovo. Vittato di nuovo in bianco. Dov'è che sono esattamente? Ucci, uuuh. Bella, bravo. 88 metri. Che cara è il sole. Pussa, pussa, pussa. Ok, è atterrato. Minchia, l'esplosione ha distrutto tutto. Arrivo. Sono morti tutti? Mi pare sì. Allora, li aspira polveri. Ma in realtà c'è il mio estenso per tutto l'universo. Ma ragazzo, mancano 16 persone, non è che sono tante. Questa è inutile dirlo, è già vivo. Eccolo. Ci stanno sparando da destra, Sascha. Vai, vai. Pottiamoci, andiamo a dritto. Ce l'abbiamo qui, eh. Giuseppe, Giuseppe. Ce l'ho qua, eh. C'è qua davanti. Vai, 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 vai. Che cazzo sto facendo? Guarda questa là. Guarda dove si va! Oh, figa, mi ha atterrato come? Uccire in precisione. Occhio, raga, che avanzano, eh. Giuseppe, fermo, fermo. E non ci sono. Eh, ma perché sei andati nella parte sotto? Preso. Ok. Ok, atterrato, atterrato, due atterrati. Sta arrivando, raga, sono un po' indietro. Atterrato un altro. Sono due atterrati. Manca uno, manca uno, manca solo uno. È andato giù, è andato giù. Beh. Preso. Tutti morti, è andata a caccare, vai. Arrivo gli altri, arrivo gli altri, Sascha. Da dove, da dove, da dove? E con il più senza plano, davanti, davanti a noi. Preso uno, c'è. No, 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 e non merito la morte, dai. Mi butto? Distruggili per la costruzione, Giuseppe, distruggila. Oh, dietro, 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 dietro. Ok, uno muore, per forza, accaduto. Eh, Stefano, Stefano, dietro di te sono. Eh, dietro. E' dalla che io vado a morire, mi butto di sotto. Ah! E' ma mai a caccare? Vabbè, siamo arrivati terzi, comunque, eh. Andiamo, andiamo qua, va. Eh? Vabbè, andiamo. Dovevamo scendere un po' prima per lì, Giuseppe, vabbè. Eh, un altro team, vedo. Io sono sulla barca. Cazzo! Aiuto! Dove sei? Dove sei? Porca del barco! Scappa, scappa! No, non ce la faccio! Dovevo bombardarmi. Non li stascia, ma non li stascia! Ah, ma che cazzo, mi va a toccare addosso, suoi! Ma che cazzo? Ah, ah, mori, non stasera. Salva, salvalo. Salva, salva Giuseppe! Eh, stavo ballando. Ah, arriva l'altro! Da sinistra. Alto Giuseppe. Alto Giuseppe! C'è un altro, eh, se... Per un altro da me, da me, da me, da me! Vai, 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 vai! Al Giuseppe, Al Giuseppe! Ma basta, lei ha atterrato di nuovo giuseppe! Oh, un altro! Ti ero nascosto il bastardo, sono aspettato che mi alzavi! Perché stai... Ma si stanno sparando fra di loro, c'è più di un team. Io ho 38 di... Ucciso! C'è una trappola? Oh, oh, c'è qua dietro! La testa! Ok! Bravo, bravo, Surry! Oh, madonna mia, che ansia! Ma non è... Scusa, ci manca qualcuno, raga! Eh sì, ma non è morto subito il team. Ah, non è morto subito? Raga, secondo me che quelli di boschetto bisunto potremmo ucciderli, eh, se avanzato uno o due persone. Ma dove li vedi? Ci sono le costruzioni, qualcuno sarà rimasto, cioè sarà ancora vivo. Cioè, abbiamo ucciso cinque persone, cioè... Oh, oh! Perché? Si ha sparato? Che cazzo! Ah, io, io, sono ucciso del minigame. Ma vieni a giocare, che minigame! Aspetta, aspetta. Ok, c'è, allora uno c'è, uno c'è, è al centro del benzinaio. Sì, ce n'è un altro qui. Dal bar, attacchiamo? Il bar? Eh, al bar. Salvanti al burger. Ah, ok, ok. Ragazzi, l'altro ce l'ho qua davanti, cerco di metterlo nel mirino. Allora, l'altro rift to go, micchia. Ok, eh, gli ho tolto lo scudo. Dov'è? Qua davanti, a me. Oh, da dietro, da dietro! Vittato a volo. Raga, mi hanno sparato col cerchino da dietro, 25 di vita, eh. Ah, 105, 105. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Oh, sono due, sono due. Però la giù doveva morire. Raga, riporti, va di lì. Ok, uno l'ho tirato. Ve l'ho detto che c'era un cecchino di là. Eccolo là, sta andando via, lo vedi? L'ha davanti dove ho lanciato la granata. Chi è andato via da solo? Vittato, sono i due. Eccolo. Soltate. Vittato, sai che c'è un altro. Vittato, vittato. Ok, è morto, è morto. E' un altro ancora. Ok, è morto. Vieni, prendi l'ombra e prendi il coso qui. Eh, non c'è l'ombra qua. Sì, sì, c'è, 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 c'è il cubo lì a fianco dove eri tu. C'è gente dentro. Aspetta, dai, sei da solo. No, aspetta, diamoci un falò. Diamoci un falò prima di fare... No, no, non sparate, raga. E qui davanti... Eh, lo so. Sto venendo da te, ti chiudo. Cazzo. Raga, aiutatemi. Un bel. Chiudi a profusione perché... Ehi! L'ho terrato, l'ho terrato uno. Cinque Klingers addirittura, figli di put... Bravi, bravi. L'altro dentro, sì. Ah, mi sta spiegando la finestra. È su a destra. È morto, è morto, è morto. Madonna, che cazzo di armi avevano questi? Tutto c'è qua. Tutto, tutto. C'è una scaracca anche qua, se lo volete. C'è una caccia blu da fuori, eh. Vabbè, comunque i materiali, mo, dovrebbero essercene. Oh, la safe! Sì, dobbiamo andare! Eh, ragazzi, via, 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 via. No, via, 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 via. Dove sei? Vieni, vieni, vieni. E ci siamo, son qua, vieni, quanto vieni. Qua, 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 qua. Veloce. Andiamo, ah, vai. Oh, meno male. Che, perché i fioti fiondi giunti, Giuse? Nel senso. Intanto teniamoci la vetta della montagna, che non è male. Visto che se mancano undici persone, magari, se ci teniamo all'altezza, è buono. Raga, ma dobbiamo andare, cioè, c'è il tipo, da l'altezza. Ah, vabbè, che ne so, magari si chiudeva di qua, magari. Sai sto rumore, raga? No, è dietro di me, raga! Dove? Dove? Sotto. Sono arrivati. Madonna, dove sono? Ok, li vedo, li vedo, li vedo. Non so da dove sono arrivati, mi sa che erano invisibili. Quel rumore che quando fa così è invisibilità. E' giù, c'è un... No, qui, qui. È sopra, sopra, sopra. È caduto il rilotto. Che mi so? Ma vaffanculo, scemo. Attento che ne arriva un altro, ce n'è un altro. Da davanti, da davanti. Ok. Ho preso il launchpad per salire. Vaffanculo, intanto l'amico more. È salito? No. Ha usato il launchpad, sì. Io c'è un colore. Ma dov'è l'amico? Usate il launchpad e andate in safe. In safe, raga. Prendete il launchpad e andate in safe, lasciatelo aperto. Allora, ricordate che ce n'è uno dietro di voi. Sì, che secondo me prenderà l'allazpad. Eh sì. E due a destra. Ti ricordi quando hai fatto 11 kill in duo? Eh, sono a 5. Eh, a posto. Allora, più o meno lo replichiamo. Costruiamo qua, Suri va? Vai, costruite. Che dietro di voi non ce ne sta un'anima. Stanno fightando sulla montagna. Ma guarda, lasciamoli fare, Suri, in realtà. Cioè, mancano 8 persone, due siamo noi. Attenzione a destra al tempo. E vi ricordo sempre che ce n'era uno con voi. Capiamo se dobbiamo andare noi. Ok, muoviamoci un po' più avanti. Subito in safe, subito in safe. Occhio, Suri, che hai visto? C'hanno i cecchini, eh. Quindi... Oh, c'è uno con il quad, là? No, è con il vestito del cazzo. Ah, sembrava un quad da lontano, ok. Allora, sono tre alla casa. Ok, li ho visti a 150 vicino all'albero. Stanno spicchiando, stanno sparando, stanno sparando lì, ok, è morto uno. State, state, levatevi un po' di vita. La mia fobbia, la mia paura è che sono in qua. No, sono in due, sono in due, sono in due. Dici che siamo in safe, in safe dei due. Beh, ci siamo. Uno, uno a destra. No, andate in safe, andate in safe, Suri. Siamo vicini, siamo vicini, va bene. Vai, costruisci. Ok, mi sta sparando a me. Ma quelli sono i due che non si vedevano, però. Eh, mi sta in safe. Ma sei tu che spari adesso, ok. Sì, sì, sono gli davanti. Io, sparare con lanciaraggi dentro. È un attimo, un attimo. Oh, e basta, ho capito, hanno i colpi infiniti. Aiuto. Suri, spara. Cambia materiale, scusate. Io sento gente che ci sparano, non sono loro. Aspetta, tu. No, perché ci arrivano altri due. A destra, ne avete altri due. A destra. Ah, 150 dovevano stare. Manca qualcuno. Ma che cazzo. Eccolo. Due sono scesi. È a sinistra. È a sinistra, è a sinistra. È singolo. Sono due. Ok, ok, sono a 60. Sono dietro. Tu giù. Lancia, mi stai. Uno è sotto di te, gli altri sono dietro. Ok, ho ferito. Sono diverso? Sono contro. Sì, sono contro. Sotto, 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 sotto. Sotto, 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 sotto. Ti danno lasciarmi a colpo, questo è il mattone, è il mattone. Io ho pochissimi colpi, purtroppo. Ma ecco, me l'immaginavo. Vai, Surry. Non ho materiali. Sto arrivando da te. Salvami, Surry, riesci? Chiudi. Vieni, sì, sì. Non chiudo, 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 non chiudo. Madonna, che ansia, dai, la cecchinata, figuriamoci se non devo arrivare. Ok, due contro due, ragazzi. Tieni. Ok. Ok, mi ha interrato. Contro la safe. Reggito in safe. E' una pozza da 50 lì. Sei uno contro uno. E' anche one hit. Dove di te. Se lui è one hit, penso. No, anch'io, io sono one hit. Eccolo. Vabbè, ora, non dovrebbe aver... E' sopra di te. Sopra di te. Boom! Coglione! Crepa! Abumarola in coppia! Uwaz! Io ho fatto 6. Volevo vincere! Non so a quale day do, non so a chi dobbiamo pregare, insomma. Comunque, Papone, Surry, esatto. Man of the match, in qualche partita, non si sa come. Comunque hanno giocato benissimo anche loro. Abbiamo fatto veramente delle squad powerose. Io direi di superare almeno, almeno in un periodo così, che c'è su quale almeno i 40.000 mi piace e vi riportiamo alla squad su Fortnite. Grazie davvero a tutti per la visione, come sempre, per essere arrivati in fondo a 6 netti migliori. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video e dati. E non ci si becca, ad un prossimo video. Bye Angry! Bye Animals! Bye Animals! Bye Angry! 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 Bye Angry!